Il cinema secondo l'arte, visto dagli occhi dei pittori, fatto dalle mani di raffinati artisti artigiani, lo racconta la mostra Stardust, polvere di stelle inaugurata all'Allegretti Gallery di Busca di Gualdo Tadino l'11 gennaio e visitabile su appuntamento fino al 31 del mese. 13 artisti tra cui spiccano le opere dei pittori e maestri ceramisti come il turco Erzoi Ilmaz, la cui presenza è patrocinata dall'Ufficio Cultura e Informazioni della Turchia, un Andy Warhol, e la bottega dei Maschereri di Venezia, con pezzi che sono entrati nella storia del cinema grazie al regista Stanley Kubrick. Il percorso della mostra prende avvio dalle stelle, nel senso fisico della parola, con le opere venate di catastrofismo cosmico di Cianciotti fino alla filmografia dedicata allo spazio. Quello alle mie spalle è un artista italiano, Mario Cianciotti, è la prima volta che collaboriamo, quindi che partecipa ad una mia iniziativa. Ovviamente è un'opera che ha a che fare con l'Armageddon, quindi con la devastazione della terra, il titolo è L'impatto ed è un'opera che già esisteva, quindi l'ho selezionata dal corpus delle sue opere, è un'opera del 2013. Ancora in questa prima parte della mostra ci sono un artista turco, Erdin Czakin, con l'Enterprise, quindi Star Trek. Poi c'è Tim Doyle, quella è una grafica in mille copie, con Harrison Ford in Blade Runner. E poi Death NYC che sta per Death New York City ed è un artista americano del quale si sa poco, è un po' il corrispettivo del Bansky inglese e qui c'è un connubio. Nelle sue opere c'è sempre questa unione di soggetti assolutamente strani, per cui Madonna con Star Wars. I volti di attori presenti e passati, dipinti su piatti di ceramica smaltata di Erzoy Ilmez, in mostra in questi giorni anche a Palazzo del Bargello di Gubbio con il patrocino dell'Ambasciata Turca, sono il filo conduttore di questa mostra che apre anche all'artigianato artistico dei maestri mascareri di Venezia che per Stanley Kubrick hanno realizzato le maschere del film Eyes Wide Shut qui in mostra. Sono opere eseguite dal 2013 in avanti da Erzoy Ilmez. È un artista turco che ho conosciuto in occasione di una mostra fatta a Tallin in Estonia. Mi è piaciuto moltissimo, mi sono piaciuti i suoi lavori perché sono freschi, perché sono originali, hanno una tecnica che è l'under glaze, tipica turca, che io non conoscevo. Li trovo particolarmente affascinanti perché mescolano quella che è il cinema, quindi i volti del cinema occidentale, sia contemporaneo che un po' più datato, quindi vedremo anche altri soggetti, mescolati con quella che è una decorazione tipica turca oppure con l'architettura turca. Quindi Nicole Kidman, questo è un angolo a lei dedicato, ma poi ne vedremo anche altri. Le maschere sono state realizzate dal mio amico Sergio Boldrin e la bottega dei maschereri di Venezia e sono quelle che Kubrick ha scelto per Esbashat. Lui stesso ha raccontato che Kubrick ha mandato a Venezia i suoi aiutanti e che nell'ambito ancora dei pochi maschereri originali rimasti a Venezia hanno scelto un po' qua un po' là delle maschere da utilizzare durante la scena dell'orgia. E queste sono quelle che Sergio e Massimo, il fratello, hanno realizzato. Questa è quella che è stata indossata, non questa in particolar modo, ma è la maschera che Tom Cruise indossa durante l'orgia, durante il ballo e tutte le altre che fanno da contorno. Tengo anche a dire che l'opera pittorica è di Sergio perché ovviamente questa sua creatività la sviluppa da un lato come mascherero ma dall'altro anche nella pittura d'olio. E quest'opera è, il titolo è Fidelio, quindi l'ha realizzata appositamente pensando ad Ai Weishat. Ma è la scena Fidelio perché era la parola d'ordine per accedere all'interno della villa ma Fidelio è anche l'unica opera teatrale di Beethoven. E quindi è un doppio omaggio all'ultimo capolavoro di Kubrick che poi sappiamo del 99 lui non è riuscito a montarlo ma credo che sia forse per questo uno dei più noti. Ecco, sappiamo tra l'altro che indipendentemente dal fatto che è stata la maschera di Tom Cruise sei molto legata a quella maschera, vero? Sì, anche perché tutte le altre continuano ad essere prodotte e questa, insomma, Sergio fa i calchi oltre a dipingerle e quindi mi dice che questa si è rovinato il calco e allora dovrà rimetterci le mani quindi per il momento rimane qui. E a proposito di opere care al cuore se non vogliamo dire anche alla memoria siamo davanti ad un Transformer che cos'è ma soprattutto di chi è, che storia c'è dietro? Sì, questo è un Transformer e l'artista, diciamo John Doe non so il nome dell'artista ci sono molto legata perché l'ho acquistata a Venice Beach, a Los Angeles in occasione del primo viaggio che ho fatto per lavoro quindi in occasione di una mostra la prima di quelle che ho curato a Los Angeles e questo l'ho acquistato sulla spiaggia da un artista di cui appunto non conosco assolutamente non so nulla è un'opera realizzata con pezzi di recupero negli anni poi, quattro anni dopo sono tornata ne ho preso un'altra però ecco, per me è curioso il fatto che proprio in quell'occasione avessi visitato gli studios e quindi in 4D avevo partecipato alla visita dei Transformer Non poteva mancare Andy Warhol in una mostra dedicata al cinema con la sua interpretazione di Ingrid Bergman attrice alla quale guardano con interesse anche artisti tedeschi e spagnoli come Valentin Gallego Gallardo con le sue opere digitali luminescenti Un artista spagnolo Valentin Gallego Gallardo e in alto c'è un Andy Warhol e in basso c'è un'opera di Gudrun Adrion che è un'artista tedesca che ha rivisitato attraverso un'installazione nella scena più famosa di Casablanca quindi lei e Humphrey Bogart uno di fronte all'altro il Warhol ce ne sono ne esistono 15 di varianti io non le ho tutte 15 però il soggetto deriva da The Nun quindi la suora e come tipico di Warhol cambia la cromia quindi ci sono 15 varianti era stato realizzato in occasione della fiera di Basilea dell'87 questa è proprio una rielaborazione fatta da schermo quindi esistono virtualmente fino al momento in cui le si va a stampare ma Valentin in realtà è un bravissimo artista che ha la cattedra di disegno e pittura quindi non bisogna assolutamente pensare che gli artisti si spostino sul digitale perché non sono in grado di dipingere ecco vorrei che questo fosse chiaro Banderas e Meryl Streep come rappresentanti di un cinema invece più contemporaneo mentre appunto il riferimento di poc'anzi era ad Ingrid Berman ma troveremo anche un'altra opera l'Ivan Clif quindi sono un po' una doppia coppia di un cinema più datato di un cinema contemporaneo Banderas in realtà il riferimento è doppio in mostra perché una delle altre opere che vedremo è di Greg Simpson e il titolo è un disegno il titolo è Fan Fatal quindi Fan Fatal in realtà è il titolo del film di Brian De Palma dove c'è protagonista Banderas la mostra si conclude con un ampio tributo al maestro Erzo Ilmaz filo conduttore della rassegna con i suoi frame di film famosi riambientati però in atmosfere d'Oriente turca in particolare con una contaminazione tra cinema e realtà che è uno dei tratti distintivi del pittore ceramista quello che lui fa è prendere in particolar modo dei frame da film occidentali dico io perché qua è il tripudio di Claudia Cardinale il gatto pardo Alain Delon lo squalo ancora vita di Pi ma c'è anche Benigni e quindi mette assieme quelli che sono attori a noi molto noti ben noti con architetture invece dessunte dalla realtà turca quindi nel caso del gatto pardo alle spalle dei due protagonisti c'è la città di Cianchiri che è quella da cui lui proviene peraltro Erzo Ilmaz in questo frangente è visibile fino al 16 di questo mese a Gubbio al Palazzo del Bargello e ricordo anche che ha la cattedra di pittura su ceramica proprio all'Università di Cianchiri per cui quello che fa è mettere assieme un'iconografia tipica turca che va dall'architettura alla texture quindi intesa proprio come decorazione ma anche nel caso di Angelina Jolie si vedeva bene come proprio tessuto di fondo e crea questa sorta di trait d'union tra mondo orientale e mondo occidentale ricordo anche che tutte le volte che Erzo Ilmaz espone in Italia l'ambasciata della Turchia avalla i nostri progetti espositivi aiutandoci anche nella comunicazione quindi anche in questo caso come a Gubbio abbiamo il patrocinio dell'ambasciata ovviamente il cinema non può tributare questa mostra non poteva non tributare spazio a Mickey Mouse quindi al volto di Mickey Mouse che è il primo volto che abbiamo conosciuto al cinema e da Mickey Mouse in generale al fumetto al cartone animato sì ci sono due opere su tela di un artista colombiano Felipe Cortes Lopatowski che in genere proprio nella sua ricerca guarda molto al cartone animato lo sguardo non a caso è rivolto verso Topolino e a fianco per chiudere la mostra ancora Andy Warhol con Truman Capote ecco ricordiamo questa mostra aperta fino al 31 di gennaio i progetti di questa galleria proseguono anche con una residenza degli artisti perché questo ci piace ricordarlo è un progetto interessante sì quello che sto cercando di attivare è in realtà un crown funding proprio per Essoi Ilmaz lui è venuto molte volte in Italia ovviamente per le sue inaugurazioni ma nel mese di giugno vorrei ospitare lui la moglie che adora l'Italia ma non è mai venuta in Italia e i suoi due bimbi proprio organizzando una residenza d'artista quindi chi parteciperà all'iniziativa con un sostegno economico potrà poi prendere parte ai workshop che si organizzeranno qui perché credo proprio che la cosa più interessante sia vedere come lui realizza le opere guardandole c'è questo senso quasi di acquerello che è molto complesso da ottenere nella ceramica e per far capire forse meglio la differenza tra l'underglaze che è questa tecnica tipica e il piatto normale quindi senza la senza la smaltatura c'è un'opera c'è un piatto di ornella muti dove la parte a colori tra virgolette è proprio quella che viene interessata dall'underglaze tutto il resto è lasciato invece in bianco e nero proprio per far vedere questa differenza tra l'altro ricordiamo questa galleria è in una terra della ceramica come è l'Umbria Beruta Gubbio Gualdo Tadino è a Gualdo Tadino che è terra di ceramica quindi anche questa possibilità noi lanciamo chissà per gli artigiani del luogo di venire a curiosare il prossimo giugno giusto? ma infatti l'idea è quella mi piacerebbe molto che ci fosse questa tre d'union questo incastro realizzando opere a due quattro sei mani volendo quindi sì io lancio l'appello assolutamente Ersoi sarebbe veramente molto penso orgoglioso e contento di lavorare con gli artigiani e gli artisti del posto Gualdo Tadino Gualdo Tadino Gualdo Tadino Gualdo Tadino Grazie.